Ok. Panico. Gunna, Holger. Dai, diglielo. Il nonno ha dimenticato il portafogli e vogliamo noleggiare gli sci. Eh, Jules. Jules! È un vero disastro. Già. Che cosa è successo? Jules! 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 Nora, è al polo nord. Cosa? Ha detto alla verità? Sì. Au. Jules, che ci fai qui? Potrei farti la stessa domanda. Oh.